Di Marco Legambiente ha condotto uno studio in Abruzzo sulla gestione dei rifiuti. Ci sono tante discariche, probabilmente troppe, e voi volete oggi lanciare un allarme? Sì, i dati sono quelli che provengono dal nostro rapporto annuale sui comuni riciclone e comuni rifiuti free. Abbiamo sempre posto l'accento sulla criticità dell'impiantistica, a nostro avviso troppo centrata sulle discariche e non su quegli impianti di economia circolare come biodigestori, piattaforme di riciclo, che sono fondamentali per intraprendere la vera transizione ecologica. Questo oggi diventa ancora di più un grido d'allarme alla luce del Consiglio regionale che si terrà domani, dove è prevista una riallocazione di circa 800.000 metri cubi di volumi a discarica, tra l'altro su due discariche fortemente critiche. Da un lato c'è Ratina, che ormai è stata già attenzionata da una protesta condivisa di cittadini, agricoltori e imprenditori, perché si parla di 470.000 tonnellate, ma anche Civeta, che seppur ha la metà di questo carico, rientra dentro una discarica già attenzionata per fatti noti alla cronaca giudiziaria. Noi chiediamo alla Regione che assuma effettivamente un impegno che va nella direzione dell'economia circolare, ovvero di fare e dare accordo affinché vengano realizzati quegli impianti necessari per fare la vera transizione ecologica, che tra l'altro sono stati già inseriti da questi comuni all'interno dei fondi del PNRR. Tra l'altro ricordiamo che Lanciano va verso la costruzione di un biodigestore anaerobico per produzione di biometano. C'è anche il discorso con altri fondi, l'importanza anche dell'impianto che nascerà a Città San D'Angelo, che dovrebbe dare stimolo e input nuovo alla raccolta differenziata sui comuni di Pescara e Montesilvano, così come altri impianti, tra cui la piattaforma intercomunale di torno in parte. Sono diverse le progettazioni messe in campo, che però parlano di economia circolare. Bisogna andare in quella direzione e tutta la politica, quindi tutto il Consiglio regionale in modo trasversale deve essere corresponsabile di questo processo e guidarlo.